se vuoi che le cose cambino come prima cosa devi cambiare e cosa devi cambiare una caratteristica personale forse una paura che devi superare si parla a volte io alcuni di voi sono studenti io un po di tempo fa stavo aiutando mia figlia che fa le scuole superiori a studiare la mitologia greca e mentre parlavamo della mitologia greca mi sono accorto che nella mitologia greca c'è sempre una storia ricorrente c'è un eroe che agli dei contro che non gli sono propizi e questi dei gli fanno tutte le cose gli fanno rapire la moglie gli uccidono gli amici sono in pericolo fino a quando sto ero non accetta una sfida che gli fa molto paura e da lì in poi tutto diventa propizio ecco anche tu hai una piccola sfida di quel tipo ci sono delle cose riguardo a te stesso una cosa riguardo a te stesso che stai pensando adesso che devi affrontare forse è un compromesso con qualcuno forse è un tuo modo di fare che non piace nemmeno a te bene prendi tor per le cose e affrontala perché se sei diventato una bella persona e affronti anche quella cosa lì ti assicuro che puoi partire a retto grazie a tutti